Ho cercato di contattare tutti i miei amici olimpionici e non solo, cercando di riunire un po' tutte le eccellenze napoletane con la voglia di metterci tutti quanti con un unico obiettivo e a disposizione della città di Napoli. Per cui è nato questo progetto che poi ovviamente si è ampliato, ho avuto la fortuna di conoscere meglio i fratelli Porzio, Pino Maddaloni, Massimiliano Rosolino, Carlo Palmieri, insomma si è aperto un poco a tutti quanti questo progetto e cercheremo di mettere lo sport al centro della vita soprattutto dei ragazzi napoletani che credo possa essere un motivo in più, soprattutto per Napoli, per crescere. Io sono uno degli ultimi ad essere arrivati insieme a Patrizio Oliva ma con grande piacere perché sta nascendo una squadra di uomini, di persone, di sportivi pronti e disponibili a dare qualcosa. In genere si cerca di prendere, noi siamo qui per offrire opportunità non solo a chi ha difficoltà nel gestire gli impianti ma soprattutto ai ragazzi e ai giovani di Napoli che hanno magari distrazioni anche un po' pericolose dare opportunità di fare sport nella maniera migliore con la speranza non solo di fare bene ma non con l'obbligo assoluto di diventare campioni.